Così, con una stretta di mano davanti a fotografi e tv, comincia la campagna elettorale per il secondo mandato di Enrico Rossi alla presidenza della regione toscana. La benedizione di Matteo Renzi era arrivata nell'agosto scorso, ma ci sono voluti altri sei mesi prima del via libera ufficiale del PD toscano, anche non solo per il tentativo dei civatiani di portare Rossi alle primarie contro Luciano Modica, andato a vuoto per insufficienza di firme. Lui, Enrico Rossi, quando parla in conferenza stampa della ricandidatura, si alza in piedi, così come la Toscana ha detto, è rimasta in piedi negli anni della crisi. Mi propongo per la prossima legislatura perché la regione possa camminare ancora più speditamente verso la strada di uno sviluppo di qualità, mettendo al centro il lavoro. Questo è ciò di cui c'è massimamente bisogno. Infrastruttura e lavoro, i punti prioritari del programma di Rossi, ma anche sociale e tasse. Io non le aumenterò, ha promesso il governatore. Dal canto suo, Parrini ha ringraziato sia Rossi che Luciano Modica e in questa fase delle regionali dichiara di puntare tutto sul programma. La bozza è già online sul sito del PD per contributi e confronti, anche in vista di eventuali alleanze per le regionali. Si fanno solo le alleanze che nascono da una vera, sincera intesa sulle cose da fare per la Toscana. Questo ci chiedono i cittadini, questa è la buona politica, questo è il modo di essere seri quando si governa. Quindi anche da soli? Anche da soli se questo sarà il risultato del confronto che faremo con il programma, però non è la cosa che ci auguriamo in partenza. Vedremo come andranno le discussioni con le altre forze politiche.